Benvenuto innanzitutto a Giuseppe Vaccarini, classe 1952, presidente dell'Aspi, l'Associazione Sommelier Professionale d'Italia, laureato miglior sommelier del mondo del 1978 in Portogallo. Adesso il benvenuto Giuseppe Vaccarini. Buongiorno. Allora, dottor Vaccarini, innanzitutto io vorrei cominciare rammentando quanto importante è per l'Italia il mondo dei vini. Il mondo dei vini è veramente molto importante perché fa parte della nostra cultura da qualche millennio, millennio si può dire, e è qualcosa che fa parte di noi, quindi noi già da fin da piccoli, meno per quanto ricordo io, si produceva vino, si produce vino perché il vino si produce in tutte le regioni d'Italia, quindi produzione del vino, mendemia, pigiatura, consumo in casa e via di seguito. Poi la scoperta di tutti i vini che abbiamo quando ho iniziato gli studi, diciamo superiori, anche il lavoro nella ristorazione, perché allora inizialmente era molto limitato solo ai vini della zona dove sono nato. E mi sono accorto, andando avanti sempre di più, che il vino, oltre ad essere stato per millenni un alimento, è diventato anche parte della cultura e oggi è molto più cultura che alimento, per ovvie ragioni che conosciamo dovute per esempio alle limitazioni dell'alcol che ovviamente ci consiglio di bere il meno possibile, ma il vino fa parte non solo della cultura, ma anche del nostro modo di alimentarci e fa anche bene se consumato moderatamente e quindi è una cosa del quale non ne possiamo fare meno. Tant'è vero che questo lo possiamo riscontrare nella frequentazione sia dei corsi che facciamo noi, ma delle varie associazioni che fanno corsi di enogastronomia, che da tantissimi anni, ormai diciamo almeno 30 anni, sono sempre molto frequentate da un pubblico molto vasto, quindi non solo chi è interessato alla professione o chi non è nel settore della ristorazione, ma veramente è un pubblico più allegato perché essendo un fattore culturale, le persone vogliono conoscire, vogliono sapere, vogliono essere in grado di apprezzare sempre di più la qualità dei prodotti che si vanno a consumare, che siano vino o cibo voglio dire, perché poi tutto a tavola e a tavola si fa l'abbinamento con i due prodotti. Quindi questo è un fenomeno che persiste, continua e devo dire che man mano si è sviluppato anche in altri paesi. Tant'è vero che io sono in contatto per ovvie ragioni di lavoro mio da tantissimi anni con oltre una sessantina di paesi al mondo e posso dire tranquillamente che anche in questi paesi si sta sviluppando la cultura enogastronomica, probabilmente prendendo ispirazione da noi o da paesi simili al nostro, tipo la Francia per esempio, che hanno una cultura enogastronomica piuttosto importante e riconosciuta anche a livello mondiale. Senta Presidente, un altro tema secondo me molto importante è quello della sostenibilità, no? Si parla sempre più spesso della sostenibilità in modo diciamo trasversale a molti campi della nostra cultura, compreso naturalmente quello enogastronomico. Ecco, in che modo la sostenibilità incrocia il vostro mondo? Io parlo da sommelier quindi non ho grandissime competenze per rispondere in modo completo a tutta questa domanda, che è molto importante, ma sicuramente se partiamo dalla filiera produttiva, il modo di utilizzare certi prodotti già in agricoltura, il fatto di utilizzare il meno possibile prodotti chimici, per esempio il fatto di sostituire il tappo di sughero, il sughero quindi viene da una pianta e quindi si va a distruggere le piante, utilizzare magari altre soluzioni con tappi riciclabili, anche questo è possibile, che siano in plastica o anche in vetro in alcuni casi, di come le bottiglie possono essere recuperate e il vetro oggi si recupera molto frequentemente e quindi si possono riprodurre ancora delle bottiglie in vetro, le etichette, i cartoni che vengono utilizzati per la spedizione, per esempio utilizzare meno legno per le casse del vino o materiali che possono essere riciclati, a volte anche il legno, ma la carta sicuramente. Cioè c'è un modo, ci sono diversi modi per poter mantenere questa sostenibilità. Senta, ma la chiusura di ristoranti, alberghi, delle strutture ricettive turistiche vi ha penalizzati e quanto vi ha aiutato invece per esempio il fatto che siano rimasti aperti i centri commerciali e quanto vi aiuta eventualmente oggi la tecnologia digitale che permette per esempio di poter collocare e distribuire i prodotti enologici, quindi le bottiglie di vino, l'ottima qualità del vino italiano, magari attraverso le spedizioni che vengono fatte direttamente a casa. Siamo tra i più penalizzati da quello che è successo e quindi la maggior parte dei ristoranti sono rimasti chiusi e non sappiamo ancora quando e come verranno riaperti e come potranno riprendere il lavoro soprattutto. E quindi questo è un grave problema anche per le persone che hanno perso o perderanno il lavoro. Per quanto riguarda i vini, il consumo si è effettuato più a casa che ovviamente nei luoghi comuni dove si andava per l'aperitivo o al ristorante stesso, il consumo ovviamente si è ridotto ma c'è sempre stato perché abbiamo notato che chi era in grado di fornire il vino a casa propria hanno messo in opera le spedizioni, quindi il vino si poteva ricevere tranquillamente a casa e consumare comunque, anche se in modo più limitato perché poi c'è anche un problema di spesa che si sono ridotte anche le spese da parte dei consumatori. Cosa può succedere dopo? È difficile prevederlo, ma sicuramente questo inciderà parecchio anche sulla produzione perché i produttori hanno limitato le loro vendite, sono riusciti a vendere qualcosa all'estero sempre tramite importatori che in qualche modo riuscirono a distribuire i vini, qualche volta tramite spedizioni di piccole quantità. Devo dire che in una conoscenza che soltanto un certo tipo di pubblico con grandi disponibilità economiche ha continuato ad acquistare i grandi vini, per il resto ovviamente molto più limitato. Cosa è successo noi anche come associazione? Siamo riusciti a mettere in opera da subito dei mini corsi per il pubblico, per tutti in cui si trattano, li facciamo tuttora, si trattano di diversi argomenti e riuscire a mandare di volta in volta, secondo le pronotazioni, anche i prodotti a casa per le degustazioni. Quindi l'interesse c'è stato anche in questo periodo e anche di parecchie persone e in questo modo siamo riusciti a raggiungere anche quelle persone, diciamo, fuori zona per quanto ci riguarda, che non avevano la possibilità di muoversi o comunque anche in tempi normali di recarsi e frequentare un corso in aula come era di consuetudine. E su questo settore noi ci stiamo sviluppando sempre di più perché abbiamo iniziato anche a fare altri tipi di corsi e di seminari che fino a qualche anno fa forse ci pensavamo soltanto e ne facevamo uno ogni tanto giusto per prova. Oggi invece sta diventando un'attività sempre più frequente e probabilmente, come viene detto da più fonti, sarà anche il futuro. Questo poi si è sviluppato anche a livello internazionale perché per quanto mi riguarda sono stato coinvolto in diverse giurie di vari concorsi che riguardano il mondo della sommelierie, fatti tutti online, tra cui anche un nostro che facciamo annualmente in Cina. Quindi vuol dire che l'interesse si è mantenuto, il consumo quindi, l'interesse verso il consumo ovviamente, attraverso queste attività e il pubblico ha risposto molto bene. Ancora una cosa Presidente, il governo sappiamo che è intervenuto con degli indennizi, ma quanto avete, facciamo un po' di fact checking, quanto avete avuto e quanto è stato veramente rifocillato il vostro mondo? Per quanto mi riguarda, perché non conosco esattamente nella ristorazione quale è stato il vero intervento, io sento i colleghi e tutti si lamentano che hanno avuto molto poco o quasi niente. Per quanto riguarda l'associazione, anche noi abbiamo avuto pochissimo, dal punto di vista dell'associazione quasi nulla e il personale è ancora adesso in integrazione con delle somme veramente irrisorie, il che veramente fa capire come siamo messi. Sicuramente non molto bene, quindi ci auguriamo tutti che questo vaccino entri in funzione più rapidamente possibile e che si possano soprattutto riaprire queste attività, perché va bene l'emergenza sanitaria, ma l'emergenza economica ci sembra molto più grave in questo momento. La varietà di vini prodotti nel nostro paese dice di una unicità mondiale e paesaggistica innanzitutto. Noi siamo una penisola bagnata dal mar Mediterraneo, con venti dal nord, dall'est, dal sud, venti che creano poi correnti che danno una varietà di gusti e sapori assolutamente unica. Nel suo genere siamo un paese veramente unico nel mondo. Ecco, questa Italia è, secondo lei, fatta adeguatamente conoscere, soprattutto pensando alla nostra cultura vitivinicola? Secondo la mia esperienza siamo abbastanza conosciuti come paese in generale all'estero, non sufficientemente per quanto riguarda tutti i nostri prodotti che ancora oggi non sono sempre sostenuti veramente dalle istituzioni come dovrebbero esserlo. In effetti siamo nel mondo del vino, siamo presenti in diversi mercati, ma non siamo quasi mai i primi importatori o esportatori verso quei paesi. Ce ne sono altri, anche più piccoli di noi, molto più piccoli di noi, perché noi siamo il secondo o primo paese, a seconda come lo si vede per la produzione dei vini, che riescono ad importare e vendere molto meglio di noi, perché c'è un supporto diverso da parte dei loro governi, ovviamente, e un modo diverso di farsi conoscere. Però tutto questo può anche essere un vantaggio, se lo guardiamo da un altro punto di vista, perché a differenza di tutti questi altri paesi, di cui adesso non faccio i nomi, che hanno come disponibilità al massimo 10 vitigni, che poi sono quelli definiti propriamente internazionali, e quindi tutti i vini un po', non dico che sono uguali, ma si assomigliano parecchio, noi abbiamo la grande fortuna, io ritengo la grande fortuna, di avere una grandissima varietà di prodotti che altri non hanno. Ecco, noi dovremmo insistere molto su questo e fare conoscere queste nostre varietà, che vanno a coprire veramente tutti i tipi di cucina del mondo, e tutti i gusti, perché ce n'è veramente per tutti i gusti in questo senso. E per fare questo sicuramente c'è ancora molto lavoro da fare, perché ce n'avevo all'inizio allo sviluppo della cultura enogastronomica nel mondo, e c'è una gran parte di persone che ancora non hanno questa cultura, ma arriverà, arriverà, sicuramente perché lo vedo anche da altre iniziative che porto avanti a livello internazionale con la sommelierie, dove inseriamo spesso proprio degli argomenti a carattere culturale, che è limitata la cultura, ma l'interesse c'è, quindi si sta sviluppando. Ecco, noi col supporto della cultura, e magari qualche supporto in più da parte dello Stato, quindi del governo, riusciremo anche a far conoscere i nostri prodotti, essere molto più presenti, e nel modo corretto e giusto, non soltanto per una questione a volte di prezzo, o perché, non solo per il prezzo, o perché dobbiamo ringraziare individualmente qualche produttore che si è dato da fare per poter vendere il suo vino in determinato paese. Grazie Presidente, ringrazio davvero molto del suo contributo, c'è ancora molto da lavorare, credo, per cui noi giornalisti dovremmo fare bene il nostro lavoro per promuovere il vino italiano. E' importantissimo il vostro lavoro, e direi che è fondamentale per la comunicazione. Grazie a voi. Grazie davvero, grazie.